L'incidente alla rotatoria di Persano, una ventenne è rimasta ferita. La ragazza avrebbe perso il controllo della macchina in quanto un mezzo agricolo le avrebbe tagliato la strada. L'episodio si è registrato nella serata di mercoledì, poco dopo le 18. L'utilitaria si è capavolta nel fosse adiacente alla carreggiata. Vetri rotti e lamiere contorte. La ventenne ha subito vari traumi e le schegge di vetro sono finite negli occhi. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine e l'ambulanza del 118. Immediati i soccorsi con la ferita condotta al vicino Maria Santissima addolorata di Eboli. I sanitari hanno subito proceduto a svolgere le cure del caso per poi verificare con esami radiografici le eventuali fratture o lesioni agli organi interni. La paziente una volta stabilizzata è stata condotta nella serata di mercoledì alla ruggida ragona di Salerno in quanto ad Eboli non c'è l'oculista nelle ore notturne. Giunta all'ospedale del capologo la giovane è stata visitata e curata. Dopo aver rimosso i frammenti di vetro dagli occhi è stata praticata anche una spinale in via precauzionale. La ferita è stata fasciata. La donna è rimasta sotto osservazione nella struttura salernitana. Sul fatto di cronaca adesso sono in corso le verifiche delle forze dell'ordine per stabilire l'esatta dinamica del fuoristrada che si presume sia dovuta ad un trattore. Resta alta la preoccupazione per la sicurezza di quel tratto di strada sarà molte volte oggetto di incidenti pericolosi. Ancora più velenosa è la polemica sulla carenza di medici complici alle ferie di Ferragosto e qualche problema di salute inoculistica è rimasto in servizio un solo medico.